Ciao, bentornato oggi sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1 con notizie come Il volto tumefatto di Kate Middleton lascia il pubblico senza parole, un bagno di sangue, ecco cosa è accaduto Il suo nome è Karen ma tutti la conoscono come la duchessa di Cambridge o ancora come Kate Middleton La donna è legata al futuro erede al trono, il principe William del Regno Unito Il loro fidanzamento ufficiale è avvenuto nel 2010 e un anno dopo, la coppia è convolata a nozze nell'abbazia di Westminster Il suo charme ha colpito particolarmente tutti i media, ed ella avrebbe avuto un impatto forte sulla moda e sui costumi tanto che gli stessi media lo definiscono Kate Middleton Effect La donna si è mostrata con il volto tumefatto e il viso gonfio, ma cosa sarà successo davvero? La donna proviene da una famiglia benestante composta da Michael Francis Middleton e Carol Elizabeth Goldsmith, entrambi ex assistenti di volo La famiglia successivamente fonda una propria società, la Party Pieces, che vende per corrispondenza accessori per feste La donna ha avuto tantissime esperienze dopo il diploma, una in particolare la vista avvicinarsi alla nostra terra italiana, in quanto avrebbe studiato tre mesi a Firenze l'italiano e storia dell'arte fino ad iscriversi alla prestigiosa Università di St Andrews. Proprio lì avrebbe conosciuto il principe William, suo compagno di studi I due iniziano a frequentarsi nel 2003, ma la notizia ai media della frequentazione arrivò solamente nel 2007 alla vigilia dei suoi 25 anni, quando alcuni editoriali fra cui The Times e The Sun, e la Guardian Media Group, cominciarono a pubblicare delle immagini della donna insieme al principe Sotto minaccia dei legali di Kate, le foto furono immediatamente eliminati dagli editoriali sopra citati . Nel 2010, la donna agì ancora una volta legalmente per alcuni editoriali anche se, dopo cinque lunghi mesi i due annunciarono il loro fidanzamento ufficiale seguito dalle nonze nel 2011 L'abito di Kate venne disegnato da Sarah Burton per Alexander McQueen L'immagine della donna viene spesso accostata a quella di Diana per il forte impatto mediatico e sociale della principessa Kate Una foto ha cominciato a circolare sul web, quella di Kate con il volto tumefatto visibilmente chiaro delle percosse subite Ma sarò davvero così? Kate Midleton è stata davvero pestata? Una foto che ha dell'incredibile, un'immagine che colpisce immediatamente i fan della donna, volto empatico e dal forte impatto mediatico e sociale Ma davvero la bella Kate Midleton è stata pestata? . Fortunatamente nessuno avrebbe fatto del male alla duchessa di Cambridge, si tratterebbe solo di un'opera d'arte realizzata dall'artista e attivista Alexandro Palombo, in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne, che si è svolta il 25 novembre Le vie di Milano sono state tappezzate da immagini di donne famose come se fossero vittime di una violenza domestica, seguita da una frase, lo aveva denunciato ma è stata uccisa lo stesso Punto grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri Ci vediamo nei prossimi video. Ciao